Allora, è quello che penso io? È quello che penso io? Eh, il pacchetto sembra di sì, anche la descrizione che c'era, no? Beh, vediamo che cos'è. Eh, dai, è arrivato! Oddio! Oddio! Ah, ma, è lei! È arrivato il fumo di Gilda! È arrivato il fumo di Gilda! Non ci credo, è lei! È Gilda! Non ci credo, no! È arrivato! Mamma mia! Guardate, guardatela! È lei! È lei! Oddio! Ora, liberiamola. Ok, l'ho liberata. Ed eccola! È Gilda! 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 Grazie.